ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò in bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco asamax k.d.gruppe srl ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cosa asamax confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere asamax durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci estericose asamax asamax è un farmaco a base del principio attivo mesalazina appartenente alla categoria degli antinfiammatori e nello specifico acido amminosalicilico ed analoghi è commercializzato in italia dall'azienda k.d.gruppe srl asamax può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni confezioni asamax 500 mg 20 supposte asamax 800 mg 24 compresse gastro resistenti informazioni commerciali sulla prescrizione titolare k.d.gruppe srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo mesalazina gruppo terapeutico antinfiammatori forma farmaceutica compressa gastro resistente indicazioni asamax compresse gastro resistenti colite ocerosa e morbo di cron trattamento delle fasi attive della malattia prevenzione delle recidive asamax sospensione rettale colite ocerosa nella localizzazione a livello reto sigmoideo trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive asamax supposte colite ocerosa nella localizzazione a livello rettale trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive nelle fasi attive di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico posologia posologia asamax compresse gastro resistenti lo schema indicativo da modificare secondo la prescrizione del medico è il seguente adulti 12 compresse da 400 mg oppure uno compresse da 800 mg tre volte al giorno la posologia può essere aumentata sino a 10 compresse da 400 mg oppure 5 compresse da 800 mg al giorno in pazienti con forme gravi popolazione pediatrica asamax è controindicato nei bambini di età inferiore ai due anni evitare l'uso delle compresse nei bambini di età inferiore ai 6 anni la documentazione relativa all'efficacia nei bambini 6 18 anni è limitata bambini a partire dai 6 anni di età malattia in fase attiva il dosaggio deve essere determinato individualmente iniziando con 30 50 mg barra kg barra b e in dosi suddivise dose massima 75 mg barra kg barra b e in dosi suddivise la dose complessiva giornaliera non deve superare i 4 g barra di e dose massima raccomandata nell'adulto trattamento di mantenimento il dosaggio deve essere determinato individualmente iniziando con 15 30 mg barra kg barra b e in dosi suddivise la dose complessiva giornaliera non deve superare i 2 g barra di e dose raccomandata nell'adulto è generalmente raccomandata la somministrazione di dosaggi pari a metà di quelli dell'adulto in bambini con peso corporeo fino a 40 kg e dosaggi pari a quelli dell'adulto in bambini di peso superiore ai 40 kg in caso di primo trattamento è opportuno raggiungere la posologia completa dopo qualche giorno di trattamento incrementando gradualmente il dosaggio la durata del trattamento per le fasi attive è mediamente di 6 12 settimane può variare a giudizio del medico in rapporto all'evoluzione clinica asamax sospensione rettale agitare bene prima dell'uso per ottenere una sospensione omogenea dopodiché togliere il tappo dalla cannula rettale per l'applicazione è necessario sdraiarsi sul lato sinistro mantenendo diritta la gamba sinistra e piegando la gamba destra inserire delicatamente la cannula nell'orifizio anale e premere il flacone compressione graduale e costante sino ad ottenere la completa espulsione del contenuto dopo l'introduzione del preparato girarsi alcune volte sui due fianchi per facilitare una migliore distribuzione della medicazione e rimanere coricati per almeno 30 minuti una migliore efficacia del prodotto si ottiene trattenendo la medicazione il più a lungo possibile o meglio lasciandola in sede per tutta la notte per tale motivo è consigliabile che almeno una delle applicazioni giornaliere sia effettuata al momento di coricarsi lo schema posologico indicativo modificabile secondo le prescrizioni del medico è il seguente adulti a seconda dell'estensione e della severità della forma clinica in media uno contenitore monodose da 2 g di mesalazina in 50 ml 1 2 volte al giorno mattina e barra o sera prima di coricarsi oppure uno contenitore monodose da 4 g in 100 ml uno volta al giorno preferibilmente la sera prima di coricarsi popolazione pediatrica as a max è controindicato nei bambini di età inferiore ai due anni relativamente all'efficacia nei bambini vi sono esperienze ridotte e documentazione limitata le dosi devono essere proporzionalmente ridotte a giudizio del medico ad esempio mezzo contenitore monodose da 2 g 1 2 volte al giorno la disponibilità delle confezioni pronte da 50 ml 100 ml rispettivamente con 2 g e 4 g di mesalazina consente al medico un'ampia flessibilità di prescrizione che normalmente si rende necessaria in rapporto all'estensione e dall'intensità del processo infiammatorio la durata del trattamento per le fasi attive è mediamente di 6 8 settimane può variare a giudizio del medico in rapporto all'evoluzione clinica nelle forme severe potrà essere utile associare un trattamento cortisonico sistemico as a max supposti lo schema posologico indicativo modificabile secondo le prescrizioni del medico è il seguente adulti in media 3 supposti al giorno divise in 23 somministrazioni nella fase attiva ed 12 supposti al giorno per la prevenzione delle recidive popolazione pediatrica as a max è contro indicato nei bambini di età inferiore ai due anni relativamente all'effetto nei bambini vi sono esperienze ridotte e documentazione limitata le dosi devono essere proporzionalmente ridotte a giudizio del medico per ottenere un migliore effetto terapeutico è importante che la supposta venga trattenuta per almeno 30 minuti o meglio per più lunghi periodi ad esempio tutta la notte durante la stagione calda può essere necessario immergere il contenitore delle supposti in acqua fredda per riconsolidare le supposte eventualmente divenute molli la durata del trattamento per le fasi attive è mediamente 3 4 settimane può variare a giudizio del medico in rapporto all'evoluzione clinica nelle forme severe potrà essere utile associare un trattamento cortisonico sistemico per evitare ricadute è poi raccomandabile adottare un trattamento di lunga durata riducendo gradualmente la frequenza delle somministrazioni adottata nella fase attiva della malattia controindicazioni as max è contro indicato nei casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti riportati al paragrafo 61 ipersensibilità ai salicilati in genere e verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico grave compromissione della funzionalità epatica o renale ulcere gastriche o duodenali in fase attiva pazienti con diatesi emorragica nefropatie gravi bambini al di sotto dei due anni di età avvertenze speciali e precauzioni di impiego nelle fasi attive di grado severo può essere consigliabile associare un trattamento cortisonico per via sistemica recidive della sintomatologia obiettiva e soggettiva possono verificarsi sia dopo la sospensione dell'assunzione di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione evitare la somministrazione di asamax compresse gastro resistenti e di lettulosi o altri medicinali che abbassando il ph del colon possono ostacolare il rilascio della mesalazina può essere potenziato l'effetto ipoglicemizzante vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere asamax durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere asamax durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza i dati relativi all'uso di mesalazina in gravidanza sono in numero limitato un numero ridotto di gravidanza esposte indica che non vi siano effetti avversi di mesalazina sulla gravidanza vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari asamax non altera la capacità di guidare di usare macchine effetti indesiderati in associazione al trattamento con mesalazina sono state segnalate reazioni avverse cutanee severe scar incluse la sindrome di stevens johnson sis e la necrolisi epidermica tossica ten vedere paragrafo 44 all'interno vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio i dati relativi a casi di sovradosaggio sono rari ad esempio suicidio premeditato con assunzione per via orale di una dose elevata di mesalazina e non indicano tossicità renali o epatica per quanto riguarda le compresse ricorrere al lavaggio gastrico e dalla infusione venosa di soluzioni elettrolitiche non è noto un antidoto specifico e il trattamento è sintomatico e di supporto incluso il monitoraggio della funzionalità renale non sono ipotizzabili casi di sovradosaggio a seguito di somministrazioni reptali proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antinfiammatori intestinali codice atc a 0 7 c 0 2 la mesalazina acido 5 aminosalicilico 5 asa è un farmaco di dimostrata utilità nelle malattie infiammatorie croniche intestinali essendo dotato di un effetto antinfiammatorio topico proprietà farmacocinettiche asa max compresse gastro resistenti dopo somministrazione orale rilascia la mesalazina nell'ileo terminale nel colon grazie ad una particolare preparazione farmaceutica che ha la caratteristica di disgregare il proprio rivestimento a dati preclinici di sicurezza la dl 50 della mesalazina dopo somministrazione orale nel ratto è risultata essere di 4594 mg barra chilogrammi nel cane trattamenti cronici 1 anno con compresse gastro resistenti a dosi fino a circa 200 mg barra chilogrammi elenco degli accipienti compresse gastro resistenti da 400 mg e 800 mg malto destrina povidone sodio lauril solfato sodio amido glicolato talco magnesio stiarato rivestimento copolimero dell'acido metacrilico metacrilato e metil metacrilato e udra gtfs 30 di farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di asa max a base di mesalazina sono argonal asa col mesalazina eurobindo mesalazina doron mesalazina e g pentacol proctas acol fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato grazie a tutti